Anche se voi lo leggete. La via della conoscenza attraverso Attilio M. Una voce. La vita è un flusso che sfugge all'uomo perché si ripresenta sotto aspetti sempre nuovi ed imprevedibili, anche se apparentemente simili al passato. Nel suo scorrere non si ripropone mai la stessa situazione, quindi non è vero, come dite voi, che la vita continui a farvi incontrare lo stesso nodo affinché lo risolviate. L'uomo ama fare questa affermazione perché vede la vita come una grande madre che continua a fargli incontrare le solite questioni, però messe sotto una luce diversa per metterlo alla prova. E poi si racconta anche che una volta risolte non le incontrerà più in una vita futura. Come abbiamo detto, ciò che si presenta è sempre nuovo, anche se voi lo leggete come una riproposizione del passato, paragonandolo a quel che conoscete, interpretandolo e facendolo diventare un vostro oggetto mentale da ripescare quando vi necessita. Non fate che ripetere dentro di voi questo processo perché siete convinti che la vita si rivolga proprio a voi per proporvi dei vostri nodi ancora irrisolti affinché possiate dipanarli e superarli e poter così fare un passo in più verso la vostra trasformazione interiore. Non è così. La vita si presenta. Punto. Sono situazioni fatti ed incontri con altri esseri che non hanno alcuna connessione con quel che è già stato e nessun fine nascosto. Ed anche se ciò che accade può magari ricordare situazioni precedenti, mai è quel che vi raccontate poiché niente è uguale a ciò che l'ha preceduto. Continua. Voce della quiete. Punto. www.vaianochiociola.gmail.com Grazie. 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 Grazie.